Siamo con il mister Giampaolo, allora mister una partita comunque giocata bene, peccato per il gol ovviamente nel finale che vi è costato due punti ma purtroppo il calcio è così, quando non si chiude poi si rischia di pareggiare e è andata così. Sì, siamo andati in vantaggio, loro hanno fatto quell'azione lì, l'unica azione ci hanno fatto gol ma la partita la dovevamo chiudere prima perché abbiamo avuto sempre il predominio del gioco avevo detto che sulle preventive bisogna stare un pochino attenti ma la squadra ha giocato purtroppo la devi chiudere perché loro hanno badato sorrisosamente a difendersi e prendere quel gol da rabbia perché innanzitutto non lo dovevamo prendere, era un pugno la partita, potevamo gestirla come volevamo l'unica pecca è che dovevamo fare il secondo gol, poi abbiamo avuto l'occasione lì con Ranieri che ha fatto una grande operata il portiere, però andiamo avanti perché il campionato non è assolutamente finito noi dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo alzare l'asticella su tante cose però mancano ancora tantissime partite e la squadra c'è, deve essere più convinta in fase realizzativa. Probabilmente l'errore è stato quello di abbassare un po' il ritmo durante il palleggio. Loro giocavano 10 giocatori sotto la linea della palla sistematicamente per 90 minuti aspettavano un nostro errore sul fraseggio però non ci hanno mai impensierito la rabbia è che l'avevamo noi la partita in pugno e lì innanzitutto non devi prendere gol e poi dovevi insistere a fare il secondo gol perché avevi le possibilità perché siamo arrivati tante volte lì con dei cross, con delle soluzioni purtroppo il calcio poi la devi mettere dentro però andiamo avanti. Siamo con il capitano Delfino Curi, Calore, allora Thomas una partita assolutamente positiva l'Aquila ha giocato, abbiamo commentato prima con Gianpaolo, ha giocato molto, avete difeso ottimamente poi con delle ripartenze siete stati molto pericolosi, infatti il gol del pareggio è arrivato proprio da questa un punto d'oro che oltre che muovere la classifica dà sicuramente morale. Sì l'abbiamo preparata in questo modo il non prenderne più di uno subito perché sono partite dove se tu in un tempo ne prendi due o tre poi è praticamente finita quindi l'assetto tattico era volto al cercare di limitare i danni nel primo tempo perché poi noi comunque atleticamente siamo a buon punto, infatti si è visto, i ragazzi hanno corso tantissimo poi il secondo tempo è ovvio abbiamo cambiato modulo e questo ha portato anche l'Aquila a poter giocare di più tra le linee ci sono state molte più azioni da gol da parte loro poi fortunatamente siamo stati anche noi bravi perché poi tecnicamente negli ultimi metri dove avevamo peccato il primo tempo siamo riusciti a fare male il secondo. Un secondo tempo l'avete iniziato subito come hai detto pure tu un modulo diverso ma specialmente un pressing sul secondo possesso insomma dell'Aquila che vi ha portato poi ad essere pericolosi e a non far giocare molto l'Aquila. Sì abbiamo cominciato con un 3-5-1-1, 5-3-1-1 chiamatelo come meglio credete che ovviamente lasciava tanto palleggio ai centrali loro infatti i centrali senza interdizione arrivavano quasi dentro la nostra metà campo quindi per loro era sicuramente più agevole poi il secondo tempo come ho detto abbiamo cambiato con un 4-2-3-1 che portava le mezzali ad uscire tanto e a dare meno spazio ai centrali forse è stata una mossa che loro non si aspettavano perché magari mentalmente erano rilassati dal primo tempo e secondo me è stata la chiave vincente. è vincente